Oggi su Ecologia Verde ti spieghiamo quali benefici apporta il mango alla nostra salute e come trarne vantaggio. Proprietà del mango. Il mango ha proprietà antiossidanti immunologiche, digestive e nutrizionali. Vediamo adesso i benefici che queste proprietà medicinali gli donano. Ha capacità antiossidante. Poiché è un frutto ricco di vitamine e minerali come acido ascorbico, tiamina, riboflavina, naacina e beta-carotene, aggiunti ai suoi componenti fenolici ad azione antiossidante, il consumo di mango aiuta a neutralizzare radicali liberi responsabili dell'invecchiamento e di varie malattie degenerative, cardiovascolari e persino alcuni tipi di cancro. Riduce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. A causa della grande quantità di antiossidanti che presenta, secondo uno studio è stato dimostrato che il consumo di mango intero o appena tagliato al giorno può ridurre il livello di gliceridi e colesterolo nei giovani, riducendo il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Stimola il sistema digestivo. Grazie al suo alto contenuto di fibre, il mango aiuta a mantenere la salute del sistema digestivo, favorendo una buona regolarità intestinale e prevenendo la stitichezza. Inoltre la fibra del mango agisce come preobiotico, nutriendo numerosi batteri, benefici per l'intestino e favorendo l'equilibrio del microbiota intestinale. Rafforza il sistema immunitario. Grazie al suo alto contenuto di vitamina A, C ed E, il mango rafforza il sistema di difesa dell'organismo contro infezioni e allergie. Prima di continuare ti mettiamo alla prova. In quale paese si ritiene abbia avuto origine il mango? India, Brasile, Messico, Thailandia. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Continuiamo. Migliora la vista. Ricco di vitamina A, luteina e zeaxantina, il mango fornisce nutrienti essenziali che contribuiscono al benessere oculare. La vitamina A è essenziale per la salute della retina e della cornea, mentre la luteina e la zeaxantina agiscono come potenti antiossidanti che proteggono i tessuti oculari dai dannosi radicali liberi e dalla luce blu. Allo stesso modo, gli studi dimostrano che questi composti riducono il rischio di contrarre malattie croniche degli occhi, come la degenerazione maculare legata all'età e alla catarratta. Scopri le proprietà medicinali degli altri frutti nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Come mangiare il mango? Questo frutto tropicale offre un'ampia varietà di sapori e consistenze che possono essere gustate in diversi modi. Alcune di queste sono il gelato al mango, l'insalata di con mango, la torta al mango, il riso glutinoso con mango, la gelatina e la mousse e la crema di mango. Se ti piace Ecologia Verde ricorda che con un super grazie puoi aiutarci a continuare a creare contenuti come questo. Controindicazioni del mango Il mango è generalmente sicuro per la maggior parte delle persone se è consumato in quantità normali come parte di una dieta equilibrata. Ci sono però alcune considerazioni e controindicazioni che vale la pena tenere a mente. Come con qualsiasi elemento alcune persone potrebbero essere allergiche al mango. Le reazioni allergiche sono relativamente rare ma possono verificarsi. Allo stesso modo, essendo un frutto molto ricco di fibre, un consumo eccessivo può causare gonfiore, gas o disturbi di stomaco. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima ci hai pensato? La risposta corretta è la A. Il mango proviene dall'India e dal sud est asiatico. Se vuoi continuare a conoscere i benefici di altri rimedi naturali non perderti la playlist che ti lasciamo qui accanto. Dicci, stai pensando di mangiare il mango? Alla prossima volta ecologisti!